L'altra metà del cielo calcistico san giustinese è costituita dall'US San Giustino, la storica società che vive da tanto tempo. Ce lo dirà adesso, da quanto ce lo ricorderà meglio, il presidente Fabrizio Ricci. Da quanto in piedi, presidente? Dallo striscione, come si vede, qui dietro, dal 1974, quindi siamo al 36esimo anno. Seconda categoria, un campionato che affrontate per il secondo anno consecutivo, con quali ambizioni, presidente? Le ambizioni, premetto che il nostro è un gruppo che vuole fare veramente sport nel vero senso della parola, vuole socializzare, fare amicizia. È un bel gruppo, però non mi ne voglio nemmeno nascondere o fare il bigotto. Abbiamo anche una buona squadra. Già l'anno scorso si poteva inserire sui play-off e dopo c'è stato qualcosa che è andato un po' storto alla fine. Ma quest'anno la squadra si è anche decisamente rinforzata. E quindi, a parte il fossato che probabilmente farà la parte del sigillo dell'anno scorso, la squadra ammazza campionata, almeno credo. Poi sono un lotto di 4-5 squadre in cui pensiamo di esserci anche noi per poter accedere agli spareggi per salire in prima categoria. Tra l'altro in questo girone A della seconda categoria ci sono un sacco di squadre dell'Alto Tevere, quindi della zona. Ma per voi il vero derby qual è? Il derby l'abbiamo già fatto in Coppa, dove tra l'altro dopo molti anni ci siamo qualificati. Abbiamo passato il turno con due vittori e un pareggio. Abbiamo giocato con la neonata, anche se già al secondo anno, con la Longobarda di Selcilama. Abbiamo vinto 2-1 e poi con l'Artiglie Feghille, che dopo un anno di purgatorio è ritornato in seconda categoria. Il vero derby allora è quello con la Longobarda? Sì, è proprio un derby del comune, diciamo. Anche se voi, forse, ora tu mi dirai se è vero o no, inseguite, certo è un traguardo non vicinissimo, ora come ora, il derby vero, quello fra qualche anno con la Virtus San Giustino, o no? Sì, sì, no, no, questo è la, come si può dire, l'ambizione un po' nascosta, è bene tenerlo, l'obiettivo nascosto, è bene tenerlo il più nascosto possibile, però... Come sono i rapporti adesso con l'altra società del Paese? Ci sono stati periodi negli anni scorsi nei quali non tutto è filato liscio, diciamoci la verità. Ora mi pare che le cose vadano un po' meglio o no? Si vanno un po' meglio, anche se abbiamo sempre molti problemi per l'utilizzo del campo sportivo, per dire la verità. Come rapporti in generale sono migliorati, anche perché è il tempo mio, però siccome lo sono anche i gestori dell'impianto sportivo, spesso, molto spesso abbiamo dei problemi, anche quest'anno abbiamo dovuto fare la preparazione fuori comune, a Gragnano, dove 30 persone hanno dovuto fare anche più di 20 km al giorno, si è andata e ritorno. Anche per l'inizio degli allenamenti normali siamo dovuti andare due o tre volte al campo del Trebbio, perché non c'era l'impianto che non c'era posto per noi e tante cose adesso non mi vorrei dilungare. Però dal punto di vista dell'utilizzo del campo, anche perché fino adesso non siamo riusciti mai a entrare nel campo principale, mentre la Virtus c'è costantemente, non è ancora nemmeno una volta nel campo principale. Beh, finiamo da qui che è meglio. Ho capito, è una polemica che forse è meglio non rinfocolare. Mi viene da pensare, visto che problemi analoghi li vivono anche alla Longobarda che abbiamo citato prima, perché sotto l'egida dell'assessore Manfroni, al quale chissà, potremmo formulare anche la proposta, non vi consorziate da questo punto di vista e non date vita ad un bello stadio, un bel campo sportivo a metà strada tra San Giustino e Lama? Buono per voi tutti. Noi delle idee in tal senso ce le abbiamo, però ancora è prematuro parlarne, diciamo. se non solo a livello di bozza, perché in effetti... Però l'idea c'è. Sì, l'idea c'è, c'è. Questa è una notizia piuttosto interessante, chissà che insomma da qui a breve non veda la luce un nuovo stadio a San Giustino. L'allenatore Bruno Matteaggi, elemento esperto, mi sembra che sa il fatto suo, spesso in questa categoria. Sì, Bruno l'abbiamo scelto lo scorso anno, è un allenatore molto esperto, anche se lui per la maggior parte della sua carriera come allenatore l'ha svolta dalla parte toscana, ha vinto dei campionati con la Scanghiari, ha fatto otto anni con la Sulpizza dove ha vinto anche in campionato, con una squadra portata su da lui, dalla Juniores, è sempre fatto bene. L'anno scorso l'abbiamo portato in Umbria, sulla sua terra d'origine natale, perché lui, anche se è un Umbro, abita in Cittacastello e è nativo di San Giustino, quindi è un compaesano, diciamo. E ha portato, l'anno scorso ha portato grosso entusiasmo nell'ambiente, e benché si era stati ripeschiati nella terza abbiamo fatto un bellissimo campionato con addirittura 15 risultati utili consecutivi. Si dice in giro, questa non so se è una indiscrezione vera o falsa, che la vera squadra di San Giustino sia l'US, nel senso che quasi tutti i suoi elementi sono del posto, mentre alla Virtus forse danno spazio. È anche vero che hanno ambizioni forti a qualche, fra virgolette, straniero, è vero? Beh, questo è l'evidenza dei fatti. Noi puntiamo molto, abbiamo anche giocatori di fuori, però puntiamo molto a recuperare i giovani, i giocatori del posto, che adesso non mi ricordo il numero, ma sicuramente sono una grossa quantità. L'anno scorso abbiamo giocato anche con nove undicesimi, però anche quelli di fuori si stanno integrando molto bene. Quest'anno, per dire, abbiamo ritornato anche a San Giustino, anche Selvi Stefano, che per anni ha militato a Umberti in quel dipinto, dove domani tra l'altro ci giochiamo la prima di campionato. Selvi Stefano e poi a suo tempo, due anni fa, hanno ritornato a Scarcelli, da Pecchio. E stanno ritornando un po' tutti questi ragazzi che giocavano fuori, stanno tornando e fanno un bel gruppo sull'essere San Giustino. Vogliamo ricordare, Presidente, i tuoi principali collaboratori. Anzitutto c'è un altro presidente che è bene menzionare. Sì, diciamo che quest'anno la società ha fatto veramente un salto di qualità, in quanto si vede che il lavoro che stiamo facendo ha dato i suoi frutti. Sono entrati in società ben più di quasi dieci persone nuove, come soci molti di più, però anche dal punto di vista operativo abbiamo dovuto fare un direttivo di ben dodici persone, con ingressi nuovi senza stare a elencare i nomi. Il Presidente che per otto anni mi ha preceduto, Roccheggiani Stefano, è rimasto all'interno della società, fa parte del Consiglio, però ha voluto un po', diciamo dopo otto anni... Si è preso un attimo di respiro, dai. Un attimo di respiro. L'Assemblea dei Soci ha voluto rieleggere a me come Presidente, che lo sono stato per quattro anni negli anni 90, e visto anche il numero dei consiglieri abbiamo deciso di fare anche due presidenti, e quindi il mio co-presidente è Pecorai Enzo. Aiuta in maniera convinta o diciamo che l'anima dell'US San Giustino è sempre Fabrizio Ricci? No, Enzo è molto convinto. Diciamo che Enzo segue più l'aspetto tecnico, perché otto ad essere il co-presidente, è sempre presente agli elementi, collabora con il mister e allena, essendo un ex portiere, allena anche i nostri portieri. Bene, hai parlato di portieri, quindi di giocatori. Hai qualche giovane interessante da lanciare verso categorie anche più importanti? Noi purtroppo non abbiamo il settore giovanile, come tu sai. Prima ho parlato dei nostri giocatori del posto, ma non mi vorrei dimenticare anche dei grandissimi giocatori e ragazzi, soprattutto che abbiamo di fuori. Uno sa tutto è il portiere Giunti, che viene dal Pistrino, che l'anno scorso ha fatto uno strepitoso campionato con noi, in una casa è stata la difesa meno battuta del campionato. Quest'anno è venuto dall'Erchi Biccheri, tra Balza, tra Balza, da Langhiari, e poi altri ragazzi, diciamo, giovani. Sui sottocuoto abbiamo preso Flavi, che è del posto di Nicola della Virtus San Giustino, per il secondo anno abbiamo Bernardini, che viene dalla Baldaccio Bruni, e poi c'è Bogliari dal Cerbara, De Lorenzi dal Lama, Venturini, qui del San Giustino, e scusami, scusami se... Bianconi, sempre della Virtus San Giustino. Siamo comunque un gruppo ben assortito, dai, con tanti giovani e anche qualche vecchio. È un gruppo di prevalentemente giovani, l'età giusta. C'è i due, i tre anziani, sono, diciamo, tra virgolette, il forte tra Balza, che per il primo anno è con noi, e invece il super confermatissimo Bellone Alessio, che è già due anni, che sopra i 10, 12, 13 gol al campionato, e ora anche Selvi Stefano, che, come dicevo prima, è rientrato dal pitum, ma anche lui ha la sua età, anche se ancora è molto forte. È sempre valido. In conclusione di questa nostra breve chiacchierata, Presidente, è una domanda che non ti posso non fare, ma riunire le forze di nuovo è possibile, prima o poi, fra un anno, 10, o no? Eh, non dire mai, dire mai, speriamo che...